Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e sulla FIPI-Li. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano Nord e Impruneta in direzione Firenze. Sulla statale 12 della Betone e del Brennero è provvisoriamente chiuso in entrambe le direzioni il tratto in località Borgo Ammozzano al chilometro 43-900 a causa di una frana. Statale 64 Porrettana è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni per una frana tra Pavana e Ponte della Venturina in prossimità del confine con l'Emilia Romagna. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!